Musica Attenzione Via! Ed ecco partito il singolo ragazzo maschile Rallenta 55, rallenta, rallenta, rallenta Attenzione Via! Via! Fireball! Ripariti 56 Attenzione Via! 57, fermaci, fermaci, fermaci Attimo Attenzione Via! Vai Matteo, una buona partenza Vai Sperf! 59, rallenta, rallenta, 59, vale l'arco, fermo Attenzione Gli ho scritto io, arrivo Via! 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 Attenzione Provo, provo, scelto Via! 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 Ma io li stavo da voi No qualcuno Ferma, fermaci, fermaci Non c'è Iuh! 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 Il primo singolo, ragazzi maschile, con il numero 54, dello sportivo Orania, Grisori Niccolò. Bravo! Occhio! Attenzione! Fermo, fermo, fermo! Il numero 55, il numero 56... ... ... ...